L'Atalanta pareggia 0-0 contro l'Inter in quella che probabilmente è la più bella partita dall'inizio della stagione una partita di agonismo, una partita di tattica, una partita di forza una partita che secondo me deve essere il manifesto di quello che deve diventare il calcio italiano al posto di inseguire le manie estere perché ieri con tecnica, con tattica e con pulizia si è offerto un grande spettacolo non è vero che lo spettacolo deriva solo da un gioco frenetico infarcito di errori e tanti gol è finita 0-0 ed è stata una partita meravigliosa io come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra sulla partita io quello che credo debba restare è che abbiamo fatto un miracolo io sfido chiunque a negare che vista la distinta dei convocati non si è messo le mani nei capelli la carta ci dava per spazzati ma le grandi idee di un mister che non si dà mai per vinto e il cuore di 11 giocatori che hanno dato l'anima non solo ci hanno fatto uscire con un pareggio ma potevamo anche vincerla che non è un dettaglio io sono... e l'avevamo detto in qualche video fa che queste riserve tra virgolette stavano dimostrando di valere di crederci di essere in condizione di avere capito gli schemi e la dimostrazione è stata ieri esattamente di quello che dicevamo ed è tantissima roba per quanto me ne guarda sulla partita io sono contentissimo di vedere tornare l'Atalanta un pressing alto a tutto campo la soluzione a 4 ha mandato in crisi l'Inter abbiamo peccato un po' in fase offensiva però, ragazzi, quelli erano perché Muriel ha fatto una gran partita però torniamo al discorso Muriel fa le grandi cose quando le fa da solo Pasalic non aveva grandi interpreti con cui collaborare e Pessina ci mette fa una giravolta fa un'altra volta prima di tirare quindi insomma era forse un attacco un po' un po' scombinato però quello offriva la casa e va bene così però, ragazzi, secondo me la prestazione è assolutamente notevole e certifica se all'inizio abbiamo detto questa partita ci deve anche far capire quali sono le nostre ambizioni certifica che noi dobbiamo continuare a essere ambiziosi poi dove sa arriva sa arriva ma non siamo secondi a nessuno per quanto riguarda le prestazioni ovviamente una menzione va a pezzella non tanto per il salvataggio che è clamoroso dovrebbero dargli una via del centro ma perché sto qua che fino a due mesi fa ma nessuno capiva che cosa ci faceva ha fatto tutta la fascia con la cicca in bocca tra l'altro che ti taglia anche il fiato quindi probabilmente c'ha due compressori giganti al posto dei polmoni Regen do un freeze benissimo coprendo e attaccando è un giocatore veramente che sta diventando emblematico mi ricordo un po' il masiellone è un giocatore che non molla che butta il cuore veramente io sono contento che si stia trovando bene che stia ottenendo grandi 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 feedback un altro giocatore che ha fatto sguardo una prestazione clamorosa è Coop Miners gran palleggiatore ieri gli interpreti davanti non è che gli offrivano chissà che tipologia di giocate però un giocatore che fa la differenza che non perde mai un pallone assolutamente e infine va citato Musso perché gliene ha vendette dietro parecchie ieri invece ci ha salvato le castagne dal fuoco più di una volta d'altronde l'abbiamo detto tante volte a grandi livelli il portiere fa la differenza ieri l'ha fatta come l'ha fatta Andanovic però ragazzi se trova la tranquillità giusta questo è un portierone io non cambio idea assolutamente l'ultima nota che voglio fare nel video per partire abbiamo parlato di Coop Miners e Mirancic io continuo a dire che Mirancic deve restare perché ieri è rimesso in campo per quello che ha fatto ha questa componente di imprevedibilità datagli dalla gran tecnica che ieri ha toccato due o tre palloni e per due o tre volte da lì sono nate delle pericolose azioni offensive è un giocatore complicato da capire da intendere però onestamente l'impressione partita dopo partita che stia crescendo e io non sono per niente sicuro che in questo momento di crescita sia sensato mandarlo in prestito perché questo ragazzo secondo me lo spazio se lo ritaglia ora come ora per me se lo ritaglia però vabbè vediamo che cosa decide la società e infine dispiace ma l'ultimo punto dobbiamo parlare del rigore perché nessuno se ne è accorto e meno male perché sennò chissà che partita diventava però la carta ci dice che c'è un rigore netto che non viene assegnato ora va bene essere sportivi e dire che bisogna vincere nonostante i rigori nonostante tutto però se un rigore c'è va fischiato e va dato e ieri per l'ennesima volta anche perché noi siamo un po' polio non protestiamo quasi mai protestiamo magari dopo c'era un rigore che dalle immagini è palese che il VAR non ha visto non imputo la colpa all'arbitro povero Cristo perché immagino fosse praticamente impossibile da vedere però il VAR secondo me che sta lì a fare vabbè adesso non ci resta altro che andare avanti testa bassa la partita di ieri ha dimostrato che noi valiamo che noi abbiamo delle ambizioni che sono legittime che la squadra è forte poi si arriva dove si arriva però c'è niente da fare la squadra la squadra è forte e lo dico anche in ottica mercato perché adesso si parla di Gosens ne parleremo magari in un prossimo video però io francamente dico fate quello che è meglio per tutti perché qua tanto va uno arriva un altro e tutti rendono perché questo Pezzella non farà i gol di Gosens è sempre meglio poterlo tenere il nostro Robin però ragazzi senza guardate senza quanti giocatori abbiamo fatto il risultato e questo non può essere una nota di colore è una nota tattica fondamentale io come al solito vi ringrazio vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione ci vediamo al prossimo video ciao ciao